Eccolo qua, è arrivato. Duda e gli altri fratelli animali che mi hanno cambiato la vita. Duda e lei, che è una gran pasticciona, veramente ne combina di tutti i colori. Ogni tanto viene voglia di strozzarla, però quante emozioni, quante gioie che regalano questi animaletti. Allora, questo libro è per tutti quelli che amano gli animali, per tutti quelli che quando vedono un animaletto si immaginano già mille emozioni e mille gioie. Però lo dedico anche a tutti quelli che non sono vicini a questo mondo, con la speranza che dopo aver dato un'occhiattina al mio libro che parla di tutte queste creature meravigliose si avvicineranno un po' di più al mondo degli animali e apprezzeranno un po' di più. Allora, mi raccomando, fatevi una bella corsetta che se no fate un gran casino. Mi raccomando, aspetto un vostro riscontro. Scrivetemi, edoardochioccio.eduardostoppa.com Dopo avervi detto il libro ovviamente mi date una vostra opinione. Oppure su Facebook, nella mia pagina pubblica. Aspetto una vostra opinione. Grazie.